Grazie alle innovazioni terapeutiche che sono avvenute in questi ultimi anni la gestione dell'emofilia per noi medici ma anche e soprattutto per i pazienti e le loro famiglie è completamente cambiata. Ora non ci dobbiamo più preoccupare perché abbiamo le possibilità di risolvere il problema su le problematiche principali dell'emofilia, quali sono le emoragie, gli emartri. Perché di questo possiamo occuparci con i farmaci. Ora dobbiamo focalizzarci di più sulla gestione della problematica emofilia in una vita assolutamente normale. I nostri bambini in particolar modo sono il futuro dell'emofilia e quel futuro deve diventare un qualcosa di assolutamente piacevole, adeguato, non limitante, consapevole. La consapevolezza della propria problematica di salute porterà sicuramente ad un miglioramento della vita generale del paziente. La situazione generale è un sistema, il sistema salute. Nel sistema tutti noi abbiamo un ruolo, quindi abbiamo un ruolo noi medici, noi sanitari nel tenerci sempre aggiornati e proporre ai nostri pazienti il massimo della cura. Ma ha un ruolo anche il paziente e l'associazione nell'essere anche qua informato. Come dicevamo spesso, non ci si improvvisa a fare i medici, ma non ci si improvvisa nemmeno a fare i pazienti. Bisogna imparare e essere consapevoli della propria problematica e l'associazione in questo ha un ruolo fondamentale. Ricordiamoci che l'associazione è fatta di persone, è fatta di pazienti, è fatta di persone che nascono, crescono e invecchiano. Quindi ci si auspica sempre che le associazioni vengano costantemente rinnovate nelle persone e in questo i centri pediatrici hanno un grande ruolo per sensibilizzare le famiglie, i bambini e gli adolescenti in crescita in questo ruolo. Situazioni come quelle di oggi, esperienze come OltreLab sono fondamentali per dare consapevolezza sempre maggiore al paziente e alla famiglia di come l'associazione e i pazienti stessi possano collaborare nell'ottenere quello che tutti noi vogliamo, cioè una vita libera dalla malattia.